Amici stracandidi, buongiorno, bentrovati a tutti quanti, è finita ufficialmente la stagione 21-22 ed è il momento di dare i giudizi, di esprimere le proprie preferenze, di dare i voti. E lo stracandido lo ha fatto per quello che riguarda tutti i giocatori, i componenti, chi più chi meno, della rosa del Napoli 21-22. Una stagione che comunque si è conclusa in maniera positiva per quello che era l'obiettivo di inizio stagione, un po' di delusione per non aver potuto lottare fino alla fine, ma non bisogna buttare nel cesso quanto di buono è stato fatto. Seguite con attenzione i giudizi stracandidi, ci rivediamo alla fine del video per le conclusioni finali. Via! Questa voto. Assolutamente ingiudicabile. Ospina, voto 7. Il patron conferma a suon di grandi prestazioni che è lui il portiere su cui puntare. Brilla per personalità ed è sempre pronto nei momenti importanti delle partite. Il rinnovo pare complicato, ma puntare su di lui dovrebbe essere il logico inizio del Napoli che verrà. Staremo a vedere. Malqui, voto 3. Pessimo lui e chi lo ha voluto e preso. Mai una prova degna del suo status di giocatore di Serie A. Lo si ricorderà più per la sua attività social che per le sue azioni in campo. Non ci mancherà. Questo è poco, ma sicuro. Tuanzèbe. Chi? Senza voto. Solito acquisto inutile di gennaio a rinverdire i fasti di Grassi e Regini di qualche anno fa. Limitiamoci ad un senza voto senza incazzarci troppo. Juan Jesus, voto 8. La vera grande sorpresa della stagione. Arrivato tra lo scetticismo generale di chi lo bollava come un ex calciatore, ha avuto l'umiltà di mettersi al servizio di Spalletti che lo ha rimesso in condizione fisica e mentale. E il buon Juan si è preso la scena con prestazioni esaltanti e di grande livello. Bravo, quando si dice meritarsi il rinnovo. Mario Lui, voto 6. Il professore ha alternato prove di grande livello ad alcune in cui mettersi a piangere per l'infortunio di Goulam torna ad attualità. La titolarità sulla fascia sinistra è ormai un problema atavico in casa Napoli e forse, si spera, presto finirà. Si avrà voglia di adeguarsi a riserva bene, altrimenti salutiamoci senza troppi riempianti. Goulibaly, voto 7. La Coppa d'Africa lo ha reso vincente, ma lo ha anche portato via da Napoli e complice anche un infortunio per troppo tempo. Prima parte impressionante, poi qualche disattenzione che lo hanno riportato tra i normali. Ma KK è il fuoriclasse di questa squadra, dentro e fuori dal campo, sperando di rivederci il prossimo anno con la fascia al braccio. Ramani, voto 7. Non partiva tra i titolari, davanti a lui KK Emanolas, ma dopo l'errore del greco con la Juve, Spalletti lo ha buttato nella mischia e non è più uscito. Forse in campo ci è rimasto pure troppo e qualche sbavatura nel finale di stagione ha ridotto leggermente la valutazione, ma stagione tutto sommato di grande, grande livello. Di Lorenzo, voto 9. Il migliore, l'Eylander azzurro. Per gran parte dell'annata è stato il giocatore che non aveva saltato nemmeno un minuto. Poi l'infortunio con l'Udinese e ci si è accorti di quanto sia tremendamente importante. Sempre presente, attento, puntuale, affidabile, semplicemente insostituibile. Goulam, voto 6. Non è in condizione, si è detto di lui ogni volta che si ipotizzava un suo impiego. Poi per necessità lo si butta nella mischia, a gennaio con Juve e Samp, e non sfigura per niente. Torna in ghiacciaia e il campo lo vede col binocolo. Ti si vuol bene, fa così, ma ora va, va e sii felice. Zanoli, voto 6. Di Lorenzo è insostituibile e se poi al suo posto devi lanciare un ragazzino, si teme il peggio. Invece dimostra di poter essere una valida alternativa. Certo, ha bisogno di giocare, ma cederlo per andare a comprare un sostituto non avrebbe alcun senso. Cresci ragazzo, cresci, ma in fretta. Demme, voto 5.5. Erede designato da Spalletti del Pizzarro che fece le sue fortune prima a Udine e poi a Roma, ma la sfortuna lo blocca per un problema al ginocchio nel ritiro e viene superato nelle gerarchie e finisce nel dimenticatoio. Riappare poco e non dispiace. Ma per la sufficienza si doveva e si poteva fare di più. Elmas, voto 6.5. Il diamante grezzo è un appellativo che gli calza a pennello. Alterna grandissime giocate a momenti in cui sparisce, ma va giustificato dalla gioventù, che però non deve diventare un alibi. La prossima deve essere la stagione della consacrazione, altrimenti si rischia uno zelischi bis, sempre lì per esplodere e non lo fa mai. Fabian Ruiz, voto 6.5. Quando sta bene, incanta. Quando non ha voglia, fa rabbia. Quando è in condizione, determina. Quando è fuori forma, lo fa in negativo. Insomma, forse fuoriclasse è eccessivo, ma sicuramente tra i migliori interpreti nel suo ruolo. Una pecca? La continuità. Se facesse 38 partiti allo stesso livello, boom! Zelischi, voto 4. La più grande delusione dell'era recente del Napoli. Dimenticate i Vargas, i Hofer, i Michu. Nessuno più di Piotr ha deluso con la maglia azzurra. Uno con le sue capacità a Napoli, nei contesti vari in cui si è trovato, avrebbe dovuto rendere 10, forse 20 volte di più. Invece, nei momenti che contavano, è sparito. Letteralmente. Peccare di personalità ci sta, ma così è troppo. Salutiamoci amichevolmente. Forse esploderai da un'altra parte, ma senza alcun rimpianto. Almeno per me. Lobotka, voto 8. La scoperta di una stella. Insieme a Jesus e Di Lorenzo compone il podio dei migliori azzurri della stagione. Si prende il centrocampo azzurro e quando non c'è, si sente. Ha lavorato alla grande con Spalletti. Chi ha creduto in lui e lo ha messo al centro del progetto. E il centrocampo azzurro ha girato a meraviglia. Avesse anche una visione di gioco verticale, sarebbe il top in Europa. Anghissà, voto 7. Pronti via e subito in campo con la Juve. Risultato? Partita mostruosa. E poi quella dopo. E quella dopo ancora. E ancora. Fino a sentirne la mancanza quando sta fuori per infortunio o quando va in Coppa d'Africa. È incredibile come lo scouting sia determinante a volte per trovare pedine fondamentali senza spendere grandi cifre. Olè il riscatto. Bravo Frank. E bravo Giuntoli. Onas, voto 5. Dopo le scintille di Crotone ci aspettavamo il grande salto. E invece tanti infortuni, poche presenze e solo qualche lampo. Più indizi fanno una prova e dunque, caro Adam, la tecnica l'avrai pure. Ma per stare ad un certo livello ci vuole quel qualcosa in più che tu non hai. Petagna, voto 6. Un paio di gol determinanti e sempre tanta voglia di dare il suo contributo e di superare limiti tecnici che non lo rendono importante agli occhi della piazza. Ma avercene riserve di questo genere, per spirito e personalità, si merita la sufficienza. E parere personale, anche la riconfermo. Osimène, voto 7.5. Questo ragazzo andrebbe benedetto all'inizio della stagione perché da quando è arrivato ha avuto solo sfortune di ogni genere che ne hanno limitato l'esplosione. Ma quando c'è si vede, ti accorgi di quanto sia devastante. Se scatta non lo prendono mai, lotta su ogni pallone, si sbatte. Anche troppo. Insomma, è un ira di Dio. Potenziale fenomeno. Speriamo che nessuno paghi i cento milioni che vuole ADL per concedercelo ancora un po'. Politano, voto 6. Parte bene, complice l'assenza per l'infortunio di Lozano, buone prestazioni, tanta disponibilità e si riconquista anche la nazionale. I numeri però sono impietosi e alterna ottime gare a prestazioni anonime. E per uno che ha 28 anni e nel pieno della maturità è poca cosa. E la sufficienza stiracchiata è una logica conseguenza. Lozano, voto 5. Vorrei, ma non posso. Il Ciuchi è una bomba d'orologeria. Esplode all'improvviso. Quando parte è difficile da frenare. Poi ti fermi e leggi i numeri e dici Ma veramente? Vorrebbe un club più ambizioso, più blasonato. Ma sicuro di potertelo permettere? Fossi in lui, resterei a Napoli per la definitiva consacrazione. Certi palcoscenici, a volte, bisogna guadagnarseli. Mertens, voto 8. Ciro, che dire. La storia, una scelta di vita, amore incondizionato. E poi il campo, in cui parla ancora oggi a 35 anni suonati. Sa dire la sua. Quando c'è, la squadra è più elettrica. Come se da un momento all'altro possa succedere qualcosa. In casa, come fuori. Certe capacità non si insegnano. O le hai, o non le hai. Il rinnovo è che ve lo dico a fare. Un driss è per sempre. Insigne, voto, 6 e mezzo. Chiariamo subito una cosa. Lorenzo è stato il Napoli e gli va. Riconosciuto. I numeri, però, parlano di pochi gol su azione e le volte in cui non incide, soprattutto nelle gare in cui dovrebbe trascinare i compagni, sono troppe. Avrà influito la situazione rinnovo? Forse. Ma non ci deve interessare. Anche perché, sai che bello lasciare con la gioia di uno scudetto? E invece, qualche applauso dal Maradona. E nulla più. Vai e si felice, Lore. Ti si vuol bene. Spalletti, voto, 7. La Champions League era l'obiettivo di inizio stagione. E la si è raggiunta, anche abbastanza agevolmente. Chiaro, il sogno scudetto ha inciso nella coscienza del pubblico. E i giudizi, forse quelli negativi, vanno proprio in direzione di un sogno che poi non siamo riusciti a realizzare. Ma bisogna guardare alla realtà. Questa squadra partiva quinta, sesta, settima nelle previsioni di inizio stagione. Arrivare al punto in cui è arrivata è comunque un grande merito di un allenatore senz'altro capace, ma che forse dovrebbe imparare di più a gestire la comunicazione con i media e con la piazza. E dunque, stracandidi, questi voti miei, personali, per la stagione azzurra. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo nei prossimi giorni anche la reaction a quelle che furono le mie previsioni ai risultati della Serie A 21-22 e successivamente anche i voti della stagione 2022 alle squadre della Serie A. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivando la campanella così per tutta l'estate vi arrivano tutte le notifiche dei video stracandidi in tempo reale. Non vi dimenticate che il calcio fa bene alle ossa anche l'estate, anche se ce n'è poco. E mi raccomando, alla prossima. State sintonizzati.